Sono stati trovati degli escrementi in una stanza che Fatalità aveva all'interno dei sacchetti di farina per la manipolazione delle attività che fanno i bambini solitamente. Naturalmente questo ha creato un problema alle operatrici e agli insegnanti che hanno pensato di mandare a casa i bambini dopo la mensa. Ripresa difficile dopo le vacanze di Natale per il nido Chiara Lubic di Padova, ospite indesiderato un topolino che ha trovato casa nell'edificio di Via Edrone per almeno due settimane. Numerosi disagi per i 50 bambini tra gli 0 e i 3 anni che lo frequentano. Mandati a casa in fretta e furia lunedì dopo la mensa, anche nella giornata di martedì i genitori si sono dovuti arrangiare. Oggi invece sono presenti tutti perché è stato rilevato la presenza di questo topolino che è stato tolto di mezzo, è stato pulito tutto l'ambiente, bonificate i lettini perché potrebbe esserci magari stato il passaggio del topolino sulle brandine. Quindi è stato pulito tutto, è ripassato tutto l'edificio e quindi per maggior sicurezza verso i piccoli che naturalmente gattonano e toccano per terra e hanno bisogno della maggiore pulizia. Non l'unico problema per la scuola e gli istituti dell'area, sottolinea Rossella Salvan, vicepresidente della consulta di quartiere 2. Questa scuola in particolare aveva ricevuto segnalazioni riguardo delle infiltrazioni d'acqua. Pertanto c'è un salone dove, essendoci una vetrata, da lì penetrava l'acqua durante le piogge. È chiaro che anche quello è un disagio, ma anche altre scuole hanno questo problema. La scuola media che abbiamo alle nostre spalle, che è la Briosco, ha due aule chiuse dovute proprio alle infiltrazioni d'acqua. C'è la scuola muratori che da anni chiede il rifacimento dei bagni. Non è giusto che gli alunni e i genitori debbano comunque soffrire, e anche gli insegnanti, debbano soffrire di questa situazione che non è certo piacevole. Non è giusto che gli alunni e i genitori debbano soffrire, che hanno i genitori debbano soffrire, perché,